Un saluto e ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Proseguono le potature dei Platani lungo via Nomentana. Ad essere interessato da questa mattina è il tratto compreso tra via Smara e via di Sant'Agnese. Fino alle 18 circa saranno deviate su percorsi alternativi le linee 60, 66, 82 e 90. I bus percorrono in entrambe le direzioni via Smara, piazza Nibaliano, Corso Trieste e via di Santa Costanza. A Torrevecchia invece manto stradale danneggiato in via Cesare Lombroso. La strada è chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna. In questo caso percorsi alternativi per le linee 46, 49, 546 e 916 scuola. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilità.it